Quando accetti. Entità. Da dove nascono i problemi? Dalle vostre concettualizzazioni. Se tolgo le concettualizzazioni e quindi la mente, con le sue concettualizzazioni, più o meno vicine alla realtà sostanziale, che cosa succede? Partecipante. Che non ho più problemi. Entità. Quasi, quasi. Perché ho detto quasi? Perché fino a quando tu consideri questo processo come il processo che ti porta a non avere più problemi, avrai sempre il problema di questo processo. Quindi quando è che non hai veramente più problemi? Quando accetti che la mente caratterizzi ogni cosa e che in assenza della mente nasca il misticismo che ti si impone nel silenzio. Nel silenzio del santo, nel silenzio dell'atman, nel silenzio della preghiera. Grazie. 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 Grazie.